E' un Bobo Vieri a tutto tondo quello che si è presentato stamattina a Marina di Ragusa per la presentazione del Bobo Summer Cup che prenderà il via oggi sulla spiaggia accanto al porto turistico. Parlando all'incontro con i giornalisti all'hotel Andrea Doria, insieme a Gabriele Schembari, imprenditore e sportivo ragusano, suo amico, e a Fabio Nicosia dell'associazione I Soci, Vieri ha spiegato la valenza della Summer Cup che mira a divertire il pubblico ma anche a raccogliere fondi per l'associazione Il Onlus che in collaborazione con l'ospedale Bambino Gesù di Roma sostiene un progetto di ricerca per il profilo di metillazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini. Il torneo di foot volley organizzato da Bobo Vieri e Stars on Field torna sulle spiagge italiane dopo lo straordinario successo della prima edizione a Cervia con oltre 46.000 ingressi durante gli otto giorni di partite. La novità 2018 è rappresentata da quattro tappe itineranti. Questo weekend il kick-off sarà da Marina di Ragusa, più precisamente dalla Beach Arena a lungomare mediterraneo. Da venerdì 20 a domenica 22 luglio saranno tre giorni di gara e puro divertimento con protagonisti Bobo Vieri e i suoi ospiti. A tal proposito, insieme al bomber, ci saranno oltre a Comico e suo amico Andrea Pucci anche Alvaro Recoba che è arrivato a fine conferenza stampa ed Hernan Crespo. Mi fa star bene, mi fa star bene, sono contento, come ho detto prima, che io sono molto molto fortunato, mi va di aiutare le persone che hanno bisogno, che si trovano in difficoltà, quindi lo faccio molto volentieri, non mi peso per niente. L'anno scorso l'abbiamo fatto col campo a Visso per i terremotati, quest'anno facciamo questa cosa qua, quindi mi fa sentire bene, quindi sono contento. Come si articoleranno questi tre giorni? Divertimento, easy, divertimento. Domani c'è il primo giorno, quindi molto easy, divertimento, come era l'anno scorso. Voglio che la gente si diverta, prenderò, siccome ci saranno anche Pucci, tutti e quattro alle tappe, prenderò i microfoni, c'è tanta musica, farò giocare anche il pubblico, li faccio un giù dalle tribune, quindi è molto easy, divertimento, star bene, giocare un po', fare sport, tutto sommato è questo. Grazie.